Che cos'è il diritto di famiglia? È il diritto degli amori, è il diritto dei cuori spezzati. E nel nostro paese è una materia, come in tanti altri paesi, particolarmente sentita, particolarmente sofferta. Io mi occupo di diritto di famiglia da tanti anni, da quasi 30 anni di onorata carriera. E devo dire che, pur provenendo da un'esperienza di diritto penale, sicuramente le procedure familiari e minorili, o comunque quelle che riguardano i diritti delle persone, sono certamente le più affascinanti. Lo sappiamo tutti. L'avvocato matrimonialista è un po' conosciuto come familiarista, come divorzista. Diciamo che si tratta di sinonimi. Fondamentalmente noi ci occupiamo delle stesse vicende personali e familiari. Il diritto di famiglia viene chiamato tecnicamente, in maniera anche più corretta, come diritto delle relazioni familiari. Perché oggi non esiste più una sola famiglia, esistono le famiglie. Non c'è più la famiglia legata in matrimonio come riconoscimento sociale. Ci sono le famiglie non legate in matrimonio, le cosiddette famiglie di fatto, i conviventi mori e uxorio. Ci sono le unioni civili, che sono state introdotte dalla legge 76 del 2016, che sono poi dei matrimoni a tutti gli effetti. Non c'è alcuna differenza. Appareva brutto per il legislatore italiano chiamare i matrimoni gli amori delle persone dello stesso sesso. E quindi riguarda la fase fisiologica e patologica del matrimonio, questo diritto di famiglia. Perché etichettare gli avvocati come coloro i quali si occupano soltanto delle fasi tragiche, drammatiche, tristi del matrimonio o della famiglia in generale, è sbagliato. Gli avvocati molte volte intervengono per costruire nuovi legami, per creare nuove certezze. Per esempio le adozioni, le adozioni nazionali e internazionali, dove noi interveniamo come consulenti, interveniamo soltanto nella fase in cui, per esempio, il Tribunale per i minorenni non conceda il decreto di idoneità all'adozione internazionale. Ci occupiamo di tutti gli aspetti patrimoniali. Il matrimonialista vero è anche un esperto in diritto delle successioni, il primo libro, famiglia e successione. Poi ci occupiamo quindi delle fasi patologiche, la separazione, il divorzio, le procedure che riguardano le coppie di fatto con figli, e poi le procedure minorili, le procedure che si occupano di provvedimenti sospensivi e ablativi della responsabilità genitoriale, provvedimenti piuttosto violenti e tristi. E così poi degli ordini di protezione. Voi sapete che la legge 154 del 2001 ha introdotto la possibilità di applicazione di misure cautelari per fatti violenti, sia in sede civile che in sede penale. E ne parleremo poi in una rubrica ad hoc. Ci occupiamo poi dell'addebito delle separazioni, perché ci sono separazioni che possono essere anche sanzionate per violazione di alcuni capisaldi del diritto di famiglia, alcuni diritti e doveri che non sono assolutamente derogabili. Ci occupiamo poi della violenza in famiglia, perché io ritengo che un avvocato che si occupi di diritto di famiglia deve avere una completezza tecnica nel proprio bagaglio professionale. non è possibile lavorare a compartimenti stagni. Un avvocato familiarista, divorzista o matrimonialista che sia deve anche sapersi cimentare nel diritto penale e nel diritto processuale penale, anche perché voi sapete benissimo che almeno un 30% delle separazioni e dei divorzi o comunque delle procedure familiari in generale sono accompagnate da fatti di penale rilevanza. E quindi la conoscenza anche delle norme che riguardano il diritto penale e la famiglia è fondamentale dal punto di vista tecnico. Ci sono poi gli aspetti etici, deontologici, ci sono quindi norme di comportamento dell'avvocato matrimonialista che a mio parere non sono derogabili e che sono ancora più importanti di quelle tecniche. Quindi l'avvocato matrimonialista deve essere una persona capace al dialogo, di entrare in empatia con il proprio assistito, perché i nostri studi legali ormai sono dei pronto soccorso più che degli studi. Qua arriva gente a pezzi che sta perdendo tutto. Il matrimonio o comunque la vita insieme è il più grande investimento di vita. Quando crolla un investimento di questo tipo è normale che ci sia un momento di grande scolamento. Quindi la capacità dell'avvocato di mediare, di suggerire soluzioni quantomeno traumatiche possibili per i figli. Non usare i figli come arma di ricatto, di rivendicazione o di vendetta. Soprattutto avere a mente che è l'avvocato che decide la strategia e non il cliente. Noi non siamo coloro i quali eseguono le volontà vendicative dei nostri assistiti. Prenderlo o lasciare. Un avvocato autorevole si vede anche nelle volte in cui riesce a dire di no a un cliente o a rinunciare a un incarico. I clienti non sono i nostri padroni, ma dobbiamo sempre capire che noi abbiamo in mano la vita delle persone. Per cui dobbiamo metterci tutto il cuore, tutto l'impegno, senza però farci trascinare nella rissa, cercando sempre di rispettare il collega avversario, cercando sempre di abbassare i toni, mai confezionare denunce false o comunque non supportate da elementi di prova significativi. Perché anche questo è un aspetto che mi preoccupa. L'avvocatura italiana è sicuramente dorsalmente sana, ma c'è una parte di avvocatura che purtroppo forse non ha capito il ruolo centrale, sociale dell'avvocato, che è quello di impedire che il proprio assistito possa commettere ingiustizia. Noi siamo per la tutela dei diritti e non per violare i diritti degli altri. Questo è in sintesi, perché questo è il diritto di famiglia, il diritto delle relazioni familiari, dove gli aspetti sociali, professionali, deontologici, umani, si intrecciano. Diciamo che l'avvocato matrimonialista è anche un po' uno psicologo, perché deve anche capire al volo con chi ha a che fare. E quindi il ruolo dell'avvocato è fondamentale, l'avvocato matrimonialista, come il rapporto fiduciario dell'avvocato matrimonialista è proprio assistito, è molto più profondo rispetto all'avvocato che si occupa di altre materie. Per cui l'autorevolezza, l'autonomia, la libertà, l'organizzazione dello studio, la storia di uno studio legale è molto importante. Quindi in sintesi mi sento di dire, per coloro i quali, soprattutto i giovani avvocati, che si vogliono avvicinare al diritto di famiglia, sappiate che bisogna studiare sempre, aggiornarsi sempre, ma tenere sempre a mente che l'avvocato prima di tutto ci deve mettere il cuore. Il codice è importante, ma il cuore viene prima.